Ma non ci credo mai, ma c'è un gruppo diverso. Premio di nota dell'anno. E' qui davvero. Ho una domanda di Maio. Dimmi che... E' il polline prende fuoco. Ma dice di sì, però è meglio dare fuoco a gruppetti solatini. Perché se sono tappezzzzi succede questo. Su YouTube sicuro sta video a via.